Direttore, il cambio dalla guida tecnica della squadra si era reso ormai necessario. Con Campione avete individuato un profilo veramente importante per la categoria. Sì, purtroppo i risultati non sono stati quelli che la società si aspettava nelle prime cinque giornate. Un punto sicuramente in classifica è stato determinante per portare a una decisione radicale di cambiamento nella guida tecnica della squadra. Adesso però l'Arezzo deve cambiare subito marcia. Il mister ha già lavorato questa mattina e sarà già in panchina domani sera. Forse ci sarà necessità anche di intervenire sul mercato, ne avete parlato anche in conferenza stampa. Il mister adesso dovrà avere il tempo di valutare tutti i ragazzi uno per uno perché non avendoli mai allenati fino ad oggi, a parte Baldana che è un suo ex giocatore, dovrà prima conoscere e capire le capacità tecniche e tattiche di tutti quanti i componenti della rosa. Poi successivamente abbiamo ancora uno slot disponibile per poter aiutare il mister ad affrontare questa prima parte di campionato prima che si riaprano le liste a gennaio. Quindi se il mister avrà necessità di qualcosa e riusciremo a trovare quello di cui lui ha bisogno, sicuramente la società, come ha già fatto con altri giocatori, come ha fatto con lo staff tecnico, metterà a mano al portafoglio e cercherà di portare al mister le richieste. Lo abbiamo scritto commentando questo cambio tecnico, è un segnale importante di forza della società e di volontà di perseguire gli obiettivi. Sicuramente una società che sta investendo come la proprietà dell'Arezzo è difficile da trovare in questo momento, credo, nelle zone di Mitrofe, perché gli investimenti importanti sono stati fatti sul punto di vista delle liste, sul punto di vista dello staff tecnico, perché comunque sia stato uno staff tecnico che ha portato un impegno, stiamo portando avanti degli impegni di ristrutturazione dello stadio, abbiamo portato già il manto erboso dello stadio funzionante per la prima partita con un miracolo nei tempi, ma soprattutto con ingente spesa. Adesso stiamo mettendo a posto anche i campi di fronte dello stadio per gli allenamenti che verranno consegnati i primi di novembre. Quindi la società possiamo dire che è molto presente sul pezzo. Un'ultima domanda, cosa va colpito particolarmente di mister Camplone, perché la scelta è caduta poi su di lui? La società ha fatto una valutazione in base a quelli che sono i criteri della squadra e le capacità tecniche che hanno, quindi sicuramente sono quelle che maggiormente si cozzano col modo di giocare del mister e soprattutto abbiamo cercato un allenatore che entrando in corsa avesse quell'esperienza e quella capacità di aggregazione di gruppo che rapidamente potrebbe portare a dei risultati diversi da quelli ottenuti.